Come comprare Netflix su Gamsgo ad un prezzo stracciato, quindi in questo caso oggi vi spiego proprio dove, proprio come compro questi 3 mesi su Netflix e scelgo così il piano, metto i 3 mesi che stanno a 12,99€ più il codice promozionale che vedi direttamente sullo schermo quindi quello che devi fare prima è accedere così con un account Google così facendo ti manderanno per via email le credenziali oppure puoi vedere direttamente su Gamsgo io cedo con il mio account, vado direttamente sul mio ordine, quindi vado a scegliere così il piano metto quello da 3 mesi, 12,99€, metto così il codice promozionale che vedi sullo schermo 7S2IT applico così il codice promozionale, uno sconto, vado direttamente al pagamento scelgo così qualsiasi carta di credito che io voglio usare per pagare così questo servizio quindi vado direttamente al pagamento, mi porterà direttamente su questa pagina il prezzo da pagare è di 12,74€ 3 mesi fino a 4K, quindi puoi goderti Netflix pure fino a 4K Ultra HD aspetta un attimo un paio di secondi ed ecco qua il mio abbonamento che è andato con successo ho comprato così l'abbonamento, vado direttamente su visualizza i miei abbonamenti a sinistra sotto la censura ci sono così le credenziali quindi l'email e la password la password è coperta, quindi basta che clicchi su mostra qui ti farà vedere la password e sotto c'è scritto pure quale profilo devi cliccare per entrare su Netflix quindi io adesso inserisco le credenziali, metto l'email e la password chi vuole guardare Netflix, ci sono 5 profili condivisi io metto il secondo, perché il secondo poi l'ho modificato e ci ho messo anche il pin così nessuno può entrare nel mio profilo l'ho bloccato anche, scegli così la lingua vado avanti, scegli qual è il film che vuoi vedere, serie tv hai Netflix per 3 mesi, è solo i 12€ 70, 50 centesimi, dipende dallo sconto ed eccolo qua quindi in questo caso come puoi vedere sono entrato così nell'account che ho comprato questo è il mio abbonamento, questo è il mio profilo puoi sempre andare su impostazioni e modificare così la lingua quindi se questo video ti è stato utilissimo su come comprare Netflix ad un prezzo stracciato su Gamsco iscriviti, lascia like per altri problemi puoi sempre commentare sotto al video posso anche darti il supporto quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao ciao